Signora, ma è chiusa la Floridiana? Si entra dall'altro lato Solo dall'altro lato? Se uno c'è un passeggino come fa? No, è chiusa, si entra solo da via Nielo Falcone dalla discesa deve andare di lì e scendere le scale Scusate, sapete per caso quando riapre la funicolare? Seppure dall'altro lato c'è un piccolo tratto a reno Ma al belvedere che lei sappia si può arrivare? Riesce a accedere al belvedere dall'altro lato Si deve andare su Nielo Falcone Qua la zona sinistra Buongiorno Ma è belvedere raggiungibile? Grazie La parte a via Cimarosa Non c'è una data quindi Mi ha Wisconsin direttamente La parte a via C créer ора 1erstro Siのは nei Cimarosa La figura Ma è felice Suicora A questa parte a viaớtare Amiglio ờ No 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.